FLU, Festival di Linguaggi Urbani, è un tentativo di raccontare il territorio. Il territorio si racconta con le mostre, con i suoni, con le parole, ma si racconta soprattutto camminando, perché ci piace camminare, esplorare il territorio. Allora abbiamo pensato di portare noi stessi, innanzitutto, e le persone che ci vorranno accompagnare, a piedi per la nostra città e in mare, sulle barche dell'assonautica. Domenica, domenica 28, vi aspettiamo alle 10 per un giro in barca e per guardare Savona dal mare. Vi aspettiamo domenica alle ore 10 all'assonautica per dei giri in barca e per guardare Savona dal mare, per guardare le gru del carbone e il porto commerciale e industriale, e di pomeriggio per camminare insieme tra il Miramare, il porto, l'Ilva.